bella a tutti ragazzi sono salvaguarda il secondo giro che nemmo a un nuovo gioco si chiama G.R.P l'idea è di iniziare vai vai oh fa le capiole lui è molto bravo vedi come vedete è molto bravo lui vai fai i capiole che sei bravo dai M il caso M vai no mi sono suicidato ragazzi sono troppo forte e B M D T no ma fa un giro ha il mio record troppo forte e troppo forte mi sa Ok siamo iniziosi abbastanza bene Ora Vai su S S Inizio di S B Vaffanculo 4,9 ragazzi ci possiamo fare Non facciamo schifo noi Facciamo Siamo troppo forti Levate di AF N vai P Rilassati coglione Prova la U Vai La U ti ho detto Leva la N P Leva la U A Leva la P E Leva la A I Leva la I Vai sulla G Vai sulla V E sono morto Ragazzi faccio schifo F Ci arrivi Fa un coglione Ok Guardate quanto è agile questo qua Vero fa schifo Avete visto quanto fa schifo ragazzi? Non lo sapevo Sì mi sono suicidato ragazzi sono troppo forte Eeeh Faccio sto Schifo stai Moriamo Ragazzi questo è tutto Vi ho fatto schifo E bene ragazzi Ci vediamo alla prossima volta Peace